Spesso ci si domanda come gestire i propri risparmi in autonomia. Si possono fare investimenti a medio e lungo termine, oppure si possono fare operazioni di durata più breve. Questo è il trading online. IG è specialista nel trading online ed è sul mercato da quasi 50 anni. Offre moltissimi contenuti formativi, corsi, seminari online, ma anche sessioni di trading dal vivo con trader professionisti. Abbiamo sedi in tutto il mondo, anche a Milano, e siamo regolamentati in Italia. La piattaforma IG è all'avanguardia, ma è semplicissima da utilizzare. Ti dà accesso ai mercati mondiali con diversi strumenti finanziari, come i novissimi Turbo 24. Vi invito a provarli attraverso il nostro simulatore di trading, con denaro virtuale e quindi senza rischiare nulla. Trovate tutto su IG.com